Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il cavallo è un mammifero domestico che appartiene alla famiglia degli equide. È stato uno dei primi animali ad essere addomesticati dall'uomo e viene utilizzato per una varietà di scopi, tra cui trasporto, lavoro agricolo e sport. I cavalli sono noti per la loro forza, velocità e capacità di formare un legame stretto con gli esseri umani. I cavalli hanno una lunghezza che varia da 140 a 180 cm al garese, con un peso che può oscillare tra i 400 e i 1000 kg. La loro aspettativa di vita media è di circa 25-30 anni, ma alcuni possono vivere fino a 35 anni. I cavalli possono presentare un'ampia varietà di colorazioni e mantelli, tra cui baio, grigio, sauro e palomino. I cavalli sono erbivori e la loro dieta si basa principalmente su erba, fieno e cereali. Possono anche consumare frutta, verdura e altri tipi di alimenti come integratori. Non essendo predatori, i cavalli non hanno prede naturali, ma possono cadere vittima di predatori quali lupi e grandi felini in alcune parti del mondo, soprattutto quando sono piccoli o deboli. I cavalli sono diffusi in tutto il mondo in una varietà di ambienti. Originariamente provenivano dalle steppe dell'Asia centrale, ma ora si trovano in tutti i tipi di habitat, da campi e pascoli a stalle e aree agricole. Grazie alla domesticazione, sono stati introdotti dall'uomo in quasi tutti gli ambienti, dalla tundra alla foresta pluviale, adattandosi efficacemente a una vasta gamma di condizioni climatiche e geografiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.